Una drastica cura dimagrante e solo quando sarà terminata si potrà valutare se i sacrifici siano valsi la pena. È la storia di AEM e del suo debito da oltre 100 milioni di euro, un'esposizione per la maggior parte verso le banche. In una conferenza stampa il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente della municipalizzata Massimo Siboni hanno tracciato la strada dettando le linee che da qui in avanti si intraprenderanno per cercare di risanare l'azienda attraverso uno scientifico svuotamento di attività. E così la società che fino a ieri portava utili e liquidità all'erario comunale per i prossimi 5 anni sarà il grande malato da curare e rimetterà la svelta in piedi per tornare ad essere fonte di guadagno e non di perdita. Tra le mosse chiavi rientrano operazioni già avviate come quella tra LGH e A2A, la vendita per 5 milioni e mezzo di euro dell'area dell'ex macello dove sorgerà il polo tecnologico, il passaggio del patrimonio idrico a Padania Acque, il trasferimento delle attività strumentali come segnaletica stradale, spazzamento neve, manutenzione strade e sottosuolo alla Newco Servizi per Cremona SRL per un valore di 2 milioni e 300 mila euro. Il resto sarà messo tutto in vendita, altre aree dell'ex macello e dell'ex mercato ortofrutticolo che valgono 8 milioni e 500 mila euro, le azioni di autostrade centro Padane per altri 2 milioni e 900 mila euro, le azioni di A2A che arriveranno ad AEM dopo il closing dell'operazione con LGH. Alla fine dell'AEM, così come l'avevamo conosciuta, resterà ben poco, solo i parcheggi, il che fa temere per i possibili aumenti delle tariffe.